Oggi signori il mio obiettivo sarà quello di arrivare ad Arreal utilizzando solo e unicamente i poteri di avatar E ovviamente mi farò aiutare da due pro player incredibili ragazzi presentatevi da soli Buona Sara Salve sono il pro player più forte d'Italia Allora non... L'Italia che si fa le scelte da soli Dallo pollo sei a presto Non puoi ritare Arreal Te lo giuro Ma l'ho fatto solo perché qui sotto ce ne sono altre 47 Ma che ti fai da solo a quanto pare visto che stai andando da solo Io ve lo dico ho già trovato il potere dell'acqua Se volete ve ne posso droppare uno E raga sarà difficilissima questa challenge Quindi mi raccomando signori voi che ci state guardando da casa Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale Supportami con il codice conti Mi raccomando se non lo fate siete le teste di cazzo E basta Oddio mi sembra un po' tlacce nel senso No ci sta gente? Ho visto... Porca trota Secondo te cosa ci dovrebbe essere? Perdonate Ma il problema è che la gente qua è troppo Oh l'ho distrutto Davvero? Andiamo a pushare Andiamo a pushare Andiamo a pushare Mamma mia ragazzi siamo il team più forte del mondo Il team di avatar più forte del mondo Ok 36 36 Eh raga con calma eh con calma veramente Ok lo vedo da lontano Gli sparo Ah mi ha distrutto 81 Mi ha mangiato mi ha mangiato porca trota Ragazzi ragazzi dammi 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 Ok ha tirato Bravissimo bravissimo porca trota Sei il più forte del mondo Mi pusha Tornate indietro Chi ha tirato l'altro? Beh raga spariamo e sparate Ok gli atterro Sparate sparate dai che è da solo Mamma mia Il team più forte del mondo Forse stiamo esagerando qua con le parole conti Non è proprio il team più forte del mondo Ce la siamo capata No 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 Refelo lo dico io lo dici te Questa è già vinta Cioè è già vinta Avete cure? Sai chi ha una cura? Tua mamma è una cura Oh le bende Sì c***o Sì Oh l'allò Oh l'allò L'allò Eh dammi le bende per favore Ah una alla volta me le lascia Capito simpatico Oh sei una testa di c***o Allora per favore Mamma mia Mi fa perdere tempo Allora regà Vi dico questa cosa Io ho tre poteri in questo momento Quindi sono messo abbastanza bene Però il problema è che Dobbiamo andare a pushare Dobbiamo andare a trovare gente Perché se vogliamo arrivare da real Non possiamo rimanere camperati Questa è la cosa che vi volevo dire Sono obbligato a rompere di avatar giusto? Eh per forza Per forza? Per forza Per forza Per forza Per forza Comunque dai me ne manca uno Mi manca un potere Poi ce l'ho tutti c***o Posso diventare young finalmente Anche perché sono pelato pure Refere Destra Sinistra Sopra c'è un medaglione Puscialo Allora posso dire una roba Eh sì Pusciamolo perché Sennò sto video è tipo super morente Il problema è che Secondo me moriamo fortissimo Cioè proprio super forte La verità è che Secondo me era da tu Mori fortissimo Oddio Refere mi sembra Tu super cattivissimo Ok mi posso fidare Eh vaffanculo Non so se così ci arriviamo ad a real Non credo sia una roba fattibile Non è da real con te Scusami Ma voi state veramente Sabotando questa partita ragazzi Comunque posso dire no? Quando io gioco con lollo Non riesco a prendere le cose seriamente E questo è il mio problema Capito ma se ti arrivano a real Si prende seriamente Se no lollo vai fuori dalle palle Un attimo E fagliela prendere seria Non è colpa mia Ma comunque in realtà Pietro Andiamo 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 c'è gente Eccoli finalmente Spara Ok 18 Gli sparo col potere Non l'ho creccato Non l'ho creccato Andiamo 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 Gli sparo con tutti i poteri Raga caccio Con tutti i poteri 65 65 È praticamente morto Andiamo 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 Mamma mia se gli lancio la pietra Mamma mia se gli lancio la pietra Ma perché scappano tutti Perché hanno capito Che siamo i cazzo più forti del mondo Non stanno più lì Sono andati via Andiamo andiamo Raga inseguiamoli Non possiamo farceli scappare Vai gli sparo da lontano 71 Dai testa di cazzo E' distruttivo E' distruttivo Non so l'italiano Lollo Dove l'hai lasciato Però riprendilo per forza Per favore No lo lascio lì dove è No no prendilo Rife comunque è super cattivo Ora come pusha Lollo sta qua Vieni ad aiutarmi per favore Se no ti spacco il culo No ma secondo te Distrutto Entra uno di vita Ti resto Vabbè restate restate Yoldo Lollo olda 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 Mamma mia che termini Oh ti ha perso il bunker No 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 Lollo si distranta Lollo si Aspetta Ragazzi è un altro team Ragazzi è un altro team No vabbè io non ho più parole Posso dire una cosa Sono morto Lollo scappa Come cazzo è successo Nasconditi Dove scappo che ho tre di vita Nasconditi Fai qualcosa Nasconditi Lollo fai una roba Nasconditi fortissimo Ma dove mi nascondo Allora regà Io sono atterrato Letteralmente di m***a Questo regà È il secondo tentativo E il signor Refe Oggi ci deve cocciare Ci devi dire esattamente Come vincere la partita Perché prima Non avevamo nessuna strategia Siamo andati così Ragazzi Ti cocciano Calma Ok ho già trato il potere Da dove Ho capito Va bene Ma chi Ma chi Ma chi Ma conti Conti hai campi da tennis E lui sta dentro Eh ho capito regà Sono atterrato malissimo L'ho detto Allora regà C'è un problema Che faccio Vieni restare Vieni restare Vieni restare Vieni restare Vieni di qua Ok arrivo Piano Piano Pianissimo Ma no ma faccio pianissimo Non mi sente nessuno Corre Orca trovo Vado Provo Eh provala Tanto Sta arrivando Non mi vede Zitto che non mi vede Porca vacca Zitti Uno Super incoglionito Super incoglionito Spariamo Via 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 GG Porca due Perché E niente ragazzi Niente Queste partite Sono impossibili Vieni qua Vieni indietro Vieni indietro Eh refe Cioè non so se hai capito Stanno proprio nella mia casa No 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 Una terra Zitto Via Vieni da me Vieni da me Sta qua Cioè non so che fare Usa delle build Eh non ho build Ho finito il mazzo Ragazzi mi sto cagando addosso Refe dobbiamo andare via 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 Mi devo curare Perché che brutta situazione questa Posso dire che non ho mai visto questo Allora Allora Refe ascoltami Tanto di codice giola Non ce ne frega proprio un c***o Cioè lo possiamo lasciare là Dove sta tanto Non è mai servito a nulla Replesa 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 Che dobbiamo fare secondo te Per vincere per uscire da questa situazione di me Niente Te l'avevo appena detto E che vuol dire replessa Orca troppessa Lui apre Sì No vabbè ragazzi Però Non è senso Non è senso Io non capisco Ma non è senso Ma tu lasci voi aperti vecchio Non hai capito Replesa E lui è uscito fuori dalla casa Cioè bro Ma what the fuck Non so cosa sia Replace Cioè tu mi devi parlare in italiano bro Replace Replace Ok signori Altro tentativo Questa volta ci troviamo a distese Speriamo che sia l'ultimo Perché di morire tipo subito Non mi va per niente Il problema è che ci sta tutta la lobby Proprio in questa Questa città Dicona cosa Per non morire Bisogna stare vicini Ok Bisogna Replace Replaceare i muri Ok Adesso ho capito cosa vuol dire Ragazzi Ho parlato Ho parlato un'altra cosa in inglese Ragazzi non avete capito niente Troppo forte Replace Ora ora arrivano 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 Guarda Ok Spacca qua Spacca Spacca Ok Stop Ok bravo Replace Replaceate per bene Così quando arriveranno qua Loro si ritroveranno davanti a tutti i nostri muri Zio Pera Ma voi vi rendete conto chi ho chiamato per questo video Cioè Refe sa già tutto Sa già come cazzo non la vinceremo in questa partita Oddio lo dovrebbero sapere un attimo tutti Che bambini Vabbè Lollo 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 mamma mia se ti vedo ti do un bacio fortissimo Stai razzarriando gente Stai razzarriando Mamma mia sento passi Non saltare Non saltare Lollo c'hai due chiappe giganti comunque Esattamente qua raga Andiamo andiamo Eccolo qua Eccolo Abbiamo capito che sono qua Facciamo una cosa Però mi sta venendo un po' ansia sta qua dentro Posso essere sincero Una scatoletta di Simmental Ma la tua mamma è una scatoletta di Simmental Ma qua non c'era il bunker qua sotto? Sì sì c'è il bunker C'è il bunker C'è il bunker Eh davanti a me lo vedo Ma raga ma voi siete sicuri di ciò? Mi spazzo? Bravo 18 L'ho distrutto Richiudiamo Richiudiamo Grazie Conti di avermi chiuso fuori Prego prego però l'ho fatto apposta Non ti preoccupare Grazie Conti per forte Raga gli lancio le Klinger se mi aprite Si sono fatti esplode Da soli No Ok una terra Una terra Una terra ragazzi Mi devo provare il medikit Fermi Mamma mia Mamma mia raga che kill l'ho fatto Incredibile Spara spara Arrivando a destra Arrivando a destra Arrivando a destra Bravo Lollo Bravo Lollo Mi sei del medikit Mi sei piaciuto Mi sei piaciuto Mamma mia se mi state piacendo ragazzi Sei troppo forti Vi amo Un po' lo prendo io Grazie Venite ora Mettete un po' di muri Mettete un po' di muri Via a caso così No no Zio a caso No stavo scherzando Però raga dobbiamo trovare pure i poteri di avatar Cioè non è che possiamo vincere così Ah che l'ho Ce l'ho Per qualche motivo ce l'ho Dammelo Tutto tuo Top top perfetto Ok potete il fuoco Guardate la gente che c'è Pieno Ti posso spiegare una cosa La prossima volta un tuo compagno Non lo devi chiudere fuori Capito Ti chiedo veramente scusa Però non l'ho fatto apposta È stata la paura che mi ha portato a fare questo Ti chiedo scusa Ora venite con me Ok Questa la fai ta Ok qua sopra Vieni Lollo Vieni Lollo Codice Ciola Vieni Ok l'hai visto È appena passato eh Dovano rimanere camperati Appena passa Lo distruggiamo Sono tutti qua Raga Possete che mi sto a cagare sotto Io ho quelle granate fighe Che fanno danno di scudo eh Ok Bella bella No Non è stata un'ottima idea questa Posso essere sincero Non mi è piaciuto Sto dentro al bagno ragazzi Sto chiuso in bagno Pure io Lollo faccio Lollo faccio Lollo è aperto No 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 Refi Refi Ma no Ma no Vaffanculo Vaffanculo Non c'è un'arma in questo posto Non c'è un'arma Non c'è un'arma Via Zero armi Zero armi Siamo morti Raga ma che bello giocare Fare i video in questo modo Mi diverto proprio Veramente Mi diverto proprio Cazzarola Non è possibile però Per divertimentazione Fermi ho trovato un pompa Non ci posso credere Raga dobbiamo stare uniti Come ha detto Refi prima Ragazzi ragazzi da me Da me Eh GG Uno di vita Lo possiamo camperare Vai andare a aiutare Uno di vita Andiamo andiamo Via uno di vita Sempre lui che ha 50.000 di vita Siete in due Siete in due Non potete perdere Preso Quell'altro Ok è morto uno Fermi Vieni qua Conti di qua Lo so l'ho visto L'ho visto Terra un altro Terra un altro Resta resta Vieni qua Vieni qua Dai Conti Davanti a te Calmi 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 No si Mi sembra strano Che non mi vedessi Raga scusate se vi salvo Le partite Cioè nel senso Con calma Ah Adesso mi ha rito su Allora Siete tutti Siete tutti che qua davanti Ho visto un sacco di poteri Da quelli che ho ucciso Ho fatto un sacco di chi Potreste andarmere buttare Oh finalmente una banana Così me la mangio Non me la infilo nel culo Ok andiamo ad arrestare il mio fratello Refe La partita non è terminata Non è terminata Si continua signori Oddio ma c'era un altro morto qua Oddio Però di gente morta Lollo vieni che qua ci sta un altro potere di coso Ok signori con calma Questa partita La sento buona Abbiamo arrestato Refe Abbiamo già due kill Abbiamo i poteri Non possiamo perdere No è impossibile È impossibile Ti pare morire Che per sbagliare qualcuno ci ammazza È impossibile Che moriamo Ma no ma ti pare poi Che quelli che abbiamo appena ucciso Restano con le schedine Ci ghillano subito appena rispondono No no è sicuramente impossibile Comunque lutiamo per bene È qui da me È qui da me È qui da me C'è altra gente Com'è possibile Eh ce n'è uno solo Ok ok andiamo andiamo Raga questo lo dobbiamo uccidere con i poteri Però per forza ve lo dico Aspetta andiamo L'ho visto Ok spingamelo se lo vedi Qua 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 davanti a me Ok lo vedo lo vedo Pamma è immortale Io ho tirato sei rocce Non lo posso aiutare Aspetta aspetta Ucciso Signori Ok ok Stiamo prendendo la mano Abbiamo perso praticamente 57 partite Ma questo non è un problema Niente ci impedirà di vincere la partita E i miei punti A me sì Ma tu non ti preoccupare Ma tu l'hai fatto per amicizia Cioè tu comunque Ti stai divertendo in questo video No Ah 50 euro Chi è che si sta curando Chi è che si sta curando C'è altra gente che si sta curando C'è altra gente qua davanti Sì Sento curare la gente Regà dove stanno Non lo so Non lo so Ma io si devo curare gente Ma non ho capito bene da dove Comunque qua sotto Qua sotto Mamma se sei storto Stamattina Vecchio me ero io davanti a te Che mi stavo curando Ah davvero Stortissimo Vabbè lasciamo stare Stare tutti per il coglianito Ok Venite qua ragazzi Ci sta il dominio del fuoco Che potete prendere anche voi E stiamo a posto Raga non vorrei dirvelo Ah sti c***o Nella safe Non ci fa niente Nella safe Guarda Conti ci sono mille pietre Potresti andare Scusa scusa Sotto sotto Dietro dietro a noi C'è il ping Sotto dietro Ah eccolo Andiamo Regà questo questo mamma mia Questo qua li dobbiamo scorreggiare in testa Andiamo No mi sembra eccessivo Aspetta Prova a investirlo Divo No no Trolliamolo Trolliamolo dai Trolliamolo Fermi fermi Non mi sembra il caso Abbiamo perso 12 partite Legatelo prima che muore da solo Ok Gli spariamo fortissimo E niente sta scappando E niente Regà era un po' a scappare questo Bravo Lollo Bravo Lollo Lollo vieni qua e dammi subito un bacio per favore No fai schifo Tu è un porco Oh si sente qua dietro Gente qua dietro Andiamo 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 Tra qualche secondo il bro p Esatto Ok No stanno Stanno lontano Stanno lontani Dobbiamo andare Sono lontani Sono le vicini in realtà Dobbiamo capire un attimo se sono forti oppure no Perché se sono forti Col c***o Che ci vanno Raga 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 no Si pusha e basta conti Zio povero Decide lui Basta essere delle trippe del genere Va bene andiamo andiamo Si pusha Ok allora C'è un team sopra la montagna E un altro che sta qua sotto Allora facciamo così Passiamo dalla sinistra Ok bravo Mi fido Questa tattica mi piace molto Ma vogliamo mettere un po' di pepe a questa sfida Vogliamo mettere un po' di pepe Che pepe Il primo che muore è 50 euro agli altri Ok ci sta tanto Tanto sta sempre l'ultimo a morire Guardate Guardate Stanno a pusha Raga venite Ok ok Facciamo il giro Mamma mia se li prendiamo fortissimo Vinti ora non vi fermate ora Non vi fermate per nulla al mondo Non mi sto affermando Siamo lì dietro Ok potere della terra Spam Spar Vai 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 distrutto Vai vai spara Spamma spamma spammo Spammo fortissimo No ragazzi sto per morire Non voglio dare 50 euro Ok ok mamma mia Pieno di gente qua Pienissimo Ok distrutto uno Bravissimo Bravissimo Uccidiamolo subito No da me Ah vabbè Dai Grandi Sono morto per primo Godo 50 euro lollo No era una battuta Non so se l'avete capito Abbiamo Siamo due contro uno Hai delle jumps No non ho niente Non ho niente per scappare Non capisco come sia possibile Che sotto è pieno di gente Ce ne sono almeno due Allora se vuoi possiamo scappare Tanto comunque la kill l'abbiamo fatta Puoi scappare Ce li uccidiamo questi Oddio Che paura Io ho proprio paura di perdere Quella è la cosa Cioè non mi va di fare Un'altra partita poi Capito Allora se giochiamo insieme Non possiamo perdere No bro io ti sto attaccato al culo Non so se hai capito Cioè proprio Dobbiamo giocare insieme bro Ah dove era la scheda mia Se stanno arrestati tutti Davvero? GG Erano tre Vai gli spammo col potere Sto se sono andati via Stanno qui No no qua non c'è niente Ti prendiamo la scheda Qua ci sta una Ah non c'è la banana Porca troia Pensavo fosse una banana Porca troia Eccoli dove stavano E niente Refe Refe insieme Refe insieme Vieni qua vieni qua vieni qua Prova a salire salgo salgo Ok c'è anche lì dietro occhio Mi devo curare un attimo Fammi fare il medikit Che ansia però C'hai scildini qualcosa? Eh ho scildoni Hai preso i pesci Mi direi che lasciato dai pesci zio Eh bro si Non potevo Vieni 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 ora vieni ora Andiamo Bravo Apri Ok L'uno è bianchissimo eh Non so se è morto Allora se non lo sai si scende zio Andiamo giù andiamo giù Io ci ho 20 di vita bro Aspetta fammi fare i pesci Fammi fare i pesci Ok ci siamo Orca trota Niente Niente Il pezzo di m***a Deve venirmi da sopra Ok no Gigi sono troppo Eh Refe io direi proprio di Eh no Eh no Eh no Attenzione Il signor Refe prova Non credo che ce la fa Perché è pieno di gente È pieno di gente Che deve iniziare a romperci Con gli u*****i Queste sfide sono impossibili Proprio impossibili Io mi sono rotto il capo